Sono terminati gli interrogatori dei 14 ragazzi e responsabili dell'incendio a Fontevetica, campo imperatore in estate, identificati allora dai carabinieri forestali diretti da Antonio Rampini, quali responsabili del rogo che ha distrutto uno dei luoghi più belli e suggestivi dell'Abruzzo interno. Sulla vicenda ora si attendono le valutazioni del PM che si occupa del caso Fabio Picuti in merito al provvedimento di chiusura delle indagini preliminari. Gli indagati hanno dai 18 ai 38 anni, due di loro sono residenti a Genova e Torino. Si tratta di Francesco Cavicchia, Martina Ciullo, Simone Di Benedetto, Fabrizio Di Giandomenico, Mattia Dorazio, Alessio Falone, Nicole Bagnoni, Alessandro Venti, Luca Vuozark, Ilaria Palmerini, Simone Dorazio, Enrico Tiberio, Riccardo Di Nicola e Ivan Di Giandomenico. L'incendio, come ricorderete, si sviluppò in agosto a campo imperatore nella Piana e avrebbe prodotto, secondo le prime stime, tra danni all'ambiente e costi di spegnimento, un danno che è quantificabile in 1,5 milioni di euro, con ben 330 ettari andati completamente in fumo. Ad occuparsi dello studio è stato il tenente colonnello Carlo Consoli del raggruppamento Carabinieri del Parco che ha prodotto il report avvalendosi della preziosa collaborazione dell'Ateneo Aquilano. Ora i 14 indagati rischiano seriamente di finire sotto processo. L'indagine, come è noto, è stata svolta dal Nipaf del Comando Provinciale e della sezione di polizia giudiziaria della Procura dell'Aquila.